ciao ragazzi eccoci qua allora loro sono venuti a trovarci da canica no da pescara da pescara ci sono fatte una valanga e mezzo di chilometri per venire qua da noi e divertirsi ciao come ti chiami? ciao maria e sei di pescara city pescara city si, centro, centro, e cosa fai a pescara city? insegno, sei una maestra ai bambini insegnami a fare le tabelline di tutto brava ma andiamo a presentare anche le amiche ciao come ti chiami? ciao debora di dove sei? di ortona vicino pescara hai così sei amica della maestra che mi insegnerà dopo a fare le tabelline anche della signora che è un'altra che... tu invece cosa fai nella vita? lavoro in un museo come la signora ti piace? ti diverti? tantissimo smetti di chiamare la signora che per me è una ragazza la signora perché il bon ton dice che sono tutte signore scusami perché in pratica nel museo è sopprita di grado e ti tocca dare a lei ma comunque risolto ciò andiamo a presentare anche la ragazza ciao come ti chiami? maria sei anche tu sempre qui? ortona ortona vicino a pescara ok siete venute qua in deltaplano ci hanno detto la valga destraplano buon coltiera buon coltiera è un mezzo comodissimo infatti costa un po' in gas quindi lavori anche tu nel museo giusto? museo d'ortona facciamo presidere anche a questo museo come ti chiederei? museo della battaglia quindi se vengo lì posso fare una volta con tutti i miei si puoi fare quello che puoi? e mi diverto ti diverti sicuro? ok ragazze sono una fortesia single no io si fidanzata libera due volte single due volte single ragazzi stasera bisogna impegnarsi sono venuto da pescara su single non fateci fare brutta figura provateci chiamate al 394 76 15 421 e fateci sapere quanto volete provarci con loro ragazze mi promettete che vi divertite da morire va bene fantastica solo un'ultima cosa sapete cosa vuol dire gargantuesco vi voglio bene allo stesso ciao ciao